Dipinto di blu, felice di stare lassù E forlavo, sorpavo, sorpavo Più andò in cielo, dono in blu L'obiettivo, avendo un po' vissuto l'anno scorso l'esperienza E avendo un po' capito contro chi mi mette a confronto Punto al quarto posto L'anno scorso era settimo, però vediamo Quali sono le nazioni da temere? Le nazioni da temere sono il Brasile, l'America, gli USA L'anno scorso mi sembra che è andato forte il Perù O l'Equador E quindi speriamo di venire a casa con un quarto posto Speriamo anche in Lorenzo che riesca a portare a casa il risultato Dipinto di blu, felice di stare lassù Andrai a difendere i colori italiani a San Diego? Emozionato? Molto emozionato, molto carico, molto determinato In questa grande possibilità che ci è stata data È la tua prima esperienza? A livello di gare, sì, è la mia prima esperienza Quanti anni è che fai surf? Ho iniziato dopo la spinta di Massimiliano nel lontanissimo fine 2013, inizio 2014 Comunque siete casati, siete pronti a portare in alto la maniera italiana? Molto determinati, sì, molto euforis Fai un saluto Un sacco di voi È forte, eh? Un sacco di voi Un sacco di voi